Ma io mi sento il più grande d'Italia, però quelli buoni, quelli nostrani, non quelli che stanno da quelle parti che fanno veramente schifo secondo me, ma io mi reputo uno di quelli autentici, quindi... Rimagliari autentici? Autentici, non di questi che fanno le porchiate vere. Io faccio delle porchiate che sono poi alla fine, credo, molto sane e utili. E invece se tu dovessi scegliere uno politico come porno divo, chi sceglieresti? Dai, che domanda, questo è facile, chiunque azzeccherebbe, anche mio figlio, il grande presidente. B, Mr. B. Oh ragazzi, il grande presidente, quanti ce ne stanno di presidente? L'unico, il mio, cioè io sono il suo discepolo. E una donna invece? Insuperabile, insuperabile. Ce lo puoi dire una donna invece? Ma ce ne sono tante che avrebbero bisogno di una bella ripassata per essere più tranquilli e relax, Diciamo che sempre il presidente ha un bel entourage, dai. È ben circondato. Molto ben circondato.